Prosegue il nostro spazio dedicato all'informazione con un ospite. Diamo il benvenuto a Maurizio Conte, consigliere regionale Veneto Forza Italia. Buonasera. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Allora, noi l'abbiamo invitata qui questa sera per discutere un po' quella che è l'attuale situazione politica italiana. Qual è la sua fotografia in questo momento? Beh, sicuramente una situazione che vede le conseguenze di quello che è stato un governo giallo-verde che vedeva già dal suo inizio, già da quello che era il contratto, l'impossibilità di andare avanti. Un contratto che vedeva due posizioni politiche completamente diverse. Una che guardava al nord, all'impresa, al rilancio dell'economia e ai posti di lavoro e che invece vedeva nel reddito di cittadinanza la possibilità di dare ancora un segnale a quel sud di non rilancio ma soprattutto di continuare a chiedere sussidi allo Stato. Quindi è su questo che sicuramente è fallita questo governo, è fallita questa coalizione politica e ha visto anche magari qualche errore da parte di Salvini. Ecco, non si dovrebbe, però noi diciamo, lei lo aveva previsto. Era appunto una previsione facile, possiamo dire, che adesso sia avverata. Ecco, ma perché secondo lei è successo? Beh, è successo perché appunto... Cioè Salvini si sentiva troppo sicuro? Salvini si sentiva sicuro, guardava ai sondaggi, guardava alle esigenze di incassare quello che era sicuramente un consenso che era nato soprattutto da una contrapposizione interna, da una contrapposizione di posizioni all'interno di quel governo tra lui, Di Maio e il Premier Conte. Una situazione che però adesso vede in difficoltà soprattutto le sue posizioni e soprattutto c'è la necessità di rilanciare un centro-destra. Quello che doveva fare da subito, da subito dopo le elezioni del 2018 per poter appunto adempiere a quello che era un programma, a un accordo politico, a quelle che sono le necessità di dare certezza anche a quell'elettore che fa le scelte. Ecco, Forza Italia, qual è la vostra posizione? Beh, sicuramente contrari a questo governo, contrari a un governo di sinistra perché appunto prima Salvini si è alleato con i Cinque Stelle che per noi erano l'estrema sinistra, dai Notav a tutto un sistema che andava contro al rilancio dell'economia, alle infrastrutture, alla necessità appunto di rimettere in gioco un'Italia a livello europeo. Ora serve chiarezza, serve che appunto ci sia compattezza del centro-destra contro questo governo che sicuramente andrà soprattutto a reprimere quelle che sono le istanze del nord, soprattutto di quell'autonomia che invece spero diventi elemento di aggregazione proprio del centro-destra. Ecco, parliamo appunto di questa autonomia adesso. Beh, un'autonomia che non si è riusciti con governo amico, perché dobbiamo ricordare questo, Zaia sicuramente mandava dei messaggi forti chiedendo l'autonomia, ma la Lega non è riuscita all'interno della coalizione, all'interno del governo, poter mettere fine a quella storia infinita sull'autonomia. Ora serve chiarezza, serve chiarezza, io spero che questo governo non mette come priorità appunto il sud, ma dia garanzia il nord, magari anche in forme diverse rispetto a quelle iniziali. Ma qui dovremo confrontarci soprattutto con la necessità di dare quell'autonomia che serve per dare responsabilità, ma soprattutto gestione di risorse. E questa sarà la prima cosa che i governatori delle regioni del nord dovranno chiedere a gran voce e soprattutto anche andare a contrattare, senza magari porre muri puramente ideologici o di contrapposizione politica. Ecco, inutile parlare ovviamente di tempistiche, di futuro immediato, bisogna armarsi di tanta pazienza. Beh, la pazienza i Veneti ne hanno sempre avuta tanta. Il problema è che ormai sono passati due anni, il 22 ottobre di quest'anno saranno due anni dal referendum. Serve chiarezza e soprattutto serve una tempistica ben definita che permetta non solo di dare l'autonomia, ma di dare ad esempio anche indietro quegli risparmi traditi a chi appunto è stato derubato dalle banche, due banche veneti in particolare. Servono quelle risposte che i Veneti da tempo chiedono e che non c'è più tempo appunto per aspettare. Maurizio Conti, io la ringrazio per essere stato con noi questa sera. Io le do la rivederci. Grazie e alla prossima. E noi proseguiamo con un altro servizio.